Non tutto è come appare. Un partito populista di destra che scippa consensi ad Angela Merkel, entra in Parlamento e immacchia, chissà per quanto, la serietà della democrazia tedesca. Questa, semmai, è la versione di chi, in Germania o altrove, Francia e Italia comprese, sta sulla tolda di comando. Perché, a ben vedere, C2 e SPD hanno commesso lo stesso errore. Che non riguarda né i migranti né l'analisi al microscopio di quanto nazismo o di quanta xenofobia siano contenuti nel DNA di alternativa per la Germania, AFD. Ne abbiamo parlato con l'economista Vladimiro Giacchè.